Ciao ragazzi, ecco qui con un altro video Allora, non so se voi vi ricordate avevo appunto girato un video dove avevo spiegato il catalogo della Pomprix e vi avevo detto appunto che appena mi arrivava quello degli intravabili ve lo facevo appunto vedere con gli acquisti praticamente che ho fatto bene, mi è arrivato appunto poco fa appunto già l'ho aperto però non l'ho guardato, ho tolto solamente la carta per non perdere poi troppo tempo perché se no il video si fa appunto troppo, diciamo comunque perché è tempo che lo spiego ci vuole, allora dentro praticamente dentro questo catalogo ho trovato questi tre queste quattro praticamente cose allora, intanto vi faccio vedere che mi è arrivato questo volantino che ho praticamente l'ispedizione gratis anziché di 6,90€ infatti è tagliato e ci è messo gratis c'è scritto appunto di approfittarmene appunto poi c'ho questa busta è qui dove dovete praticamente inserire questo buono d'ordine qualora facessi il buono d'ordine però ovviamente a prezzo speciale questo mese c'è appunto questo piumoncino che è singolo è a prezzo speciale di 1€ per matrimoniale a prezzo speciale di 6,90€ ed è molto carino ovviamente non posso fare io un ordine solo con questo perché se io cioè mando la busta solo per avere questo a prezzo speciale non me lo danno me lo danno a prezzo appunto normale perché loro me lo danno se faccio un ordine ecco questo praticamente è il catalogo dove vi fa vedere appunto il piumoncino per intero ovviamente è compreso nel prezzo ci sono anche le fodere per il copricuscino ed è molto molto carino ed è un country chic ed è molto bello mi piace un casino vediamo appunto che cosa c'è perché non ho nemmeno guardato allora ovviamente già è arrivato il catalogo natalizio cioè non so se ce ne stiamo rendendo conto già praticamente stanno mandando i catalichi natalizi e c'è una cosa impressionante c'è ancora tipo qua da me ci sono 29 gradi già mi arrivano queste cose natalizie fanno venire appunto nostalgia ma comunque c'è questo appunto anche questo piumoncino in offerta una telleria a letto a partire da 12 euro il 99 fosse in base alla grandezza del letto c'è il prezzo allora questo catalogo contiene tovaglie appunto per per la tavola appunto queste qua tipo come la telleria del letto ah no è la telleria del letto scusate non è la toglia la toglia da tavola c'è ma è questa qua a forma di cuore che comunque è sempre simile non è che non è che poi c'è il copri il divano che è molto bellino comunque in questo catalogo trovate appunto queste cose un po' particolari diciamo la borsa diciamo portababbo natale dove potete mettere lo spumante lo champagne le sciopatte natalizie le scappine natalizie poi questo che cosa è strofinacci con stampi natalizie e praticamente i rivesti bottiglia praticamente natalizio le calze praticamente dove mettere le focchettine perché poi sono idee particolari c'è molto carine i servizi da tavola ovviamente trovate le cantele queste praticamente i doncioletti questa covaglia molto particolare non so se si riesce a vedere c'è molte cose carine questo diciamo vassoio per i dolci e a forma di albero di natale molto bellino poi questo che cosa è ah sì un'altra tovaglia natalizia ovviamente più che altro sono cose natalizie ma comunque più o meno trovate queste cose qui trovate più che altro diciamo gli accessori per la casa che questo è praticamente il bollitore elettrico poi contenitori salva spazio queste altre tovaglie praticamente tovaglie antimacchia che c'è il 25% di sconto che è questa qua poi questo che cosa sono altri strofinacci con gli animali stampari il cattino il cattino questo che cos'è cappuccini cremosi come al bar praticamente c'è questa cosa nuova che gli stampini per fare i biscotti le tente le teglie che penso che voi già li conoscete che li trovate possieda tutte le parti perché sono quelle con la ceniera questa macchina questa caffettiera appunto molto carina mi piace porta praticamente tisane te camomille queste cose qua questa patellina praticamente macchinina che fa le ciambelline ed è veramente questa patellina per le crepe molto molto bella c'è cose molto carine a queste padelle a prezzi speciali da 7,49 euro ci sono due casserole in due misure rivestimenti in ceramica tre padelle in tre misure ed sono molto molto carini poi ci sono praticamente i scolapiatti questa cosa che praticamente taglia tutte le verdure una cartuccia che praticamente taglia tutte le verdure questo copri il divano praticamente antiscivolo e poi c'è appunto questa altra tovaglia da tavola natalizia questi vasi vassogli che vedete qui ce li ho appunto pure io solo che qui sono rossi con le roselline stampate io invece ce li ho blu con le papere stampate solo che adesso non ve li potrò far vedere perché ce li ho messi in un posto cioè in una mensola che è abbastanza alta e io non ci arrivo nemmeno con la sedia praticamente perché sono una nana rotta se ce l'ha mio marito appunto me le facevo scendere ma purtroppo non c'è allora ho da evitare qualche problema è meglio lasciare comunque sono molto carine in caso mai vedremo la prossima volta se ve le posso fare vedere vi faccio scendere appunto prima e ve li faccio vedere poi ci sono questi played qua appunto con la squadra del cuore preferita diciamo c'è juventus milan e inter praticamente magari per i maschetti come di a regalo è anche buona c'è questo piononcino che mi piace un sacco perché è dupla face cioè li puoi mettere in due lati tipo questo favello giallo lo metto nel lato verde è molto molto carino e mi piace un sacco dico sempre che lo devo acquistare molto e non lo ho visto mai poi c'è questa architea praticamente luminosa questo è un altro copri divano copri sedie questa tovaglietta per la tavola praticamente particolare qua sono altre tente canteline ciabattine copri rete cioè si vestiletto e copri rete che sono molto molto belli però ovviamente io non lo posso mettere perché la mia camera è modella poi c'è questo piumone ragazzi che mi piace un sacco poi azzurro è una cosa favolosa dico sempre che lo devo acquistare ma non lo acquisto mai e ci sono questi tappeti praticamente questo tappeto che diciamo sono tre rose molto per costellare lenti luminosi e poi comunque è questo qua e trovate anche portamonete gioiellini ovviamente non di quelli là buoni ovviamente sciarpe spille e anche dei coffertini trovate anche qualche abitino così li trovate quindi queste scappe che sinceramente non mi piacciono madonna questa è l'unica cosa che non mi piace di sto catalogo poi ovviamente trovate anche queste cose portate le comandi che ho un po' luce in voi potete mettere tastine dove potete mettere delle comandi questa telleria del letto per esempio è molto bella mi ricotta tipo la primavera bella sì mi piace c'è con l'azzurro con l'ocra il tipo giallo ocra poi che c'è ma questi copri abiti tappeto antiscivolo praticamente eccetera 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 comunque contiene tutte queste cose ovviamente potete richiedere anche il catalogo lo potete richiedere sul sito www.euronova trattino trattino italia appunto comunque adesso io ve lo scrivo poi nel infobox informazioni e poi così se vi interessa potete appunto ordinare il catalogo e ovviamente il numero è lo stesso di quello che vi ho detto appunto sulla comprix che 85 892 592 è sempre quel numero sempre la bombi della bombrix ora appunto vi faccio vedere da questi che ho fatto io già vi ho detto che per il passo io non vi posso fare vedere nemmeno il più buono perché l'ho messo appunto a lavare e appunto è esteso praticamente nel corso che sta asciugando nello stendino allora questi sono i tappeti che ho ordinato appunto là dagli trovabili che sono molto molto belli ti guardano i pelucchi comunque praticamente sono a forma di fafalle sono tre pezzi c'è uno quello grandissimo cioè grande che lo metto o davanti la vasca oppure sotto il lavandino dipende come mi gira più c'è di questa misura e più c'è il copri vatte che giustamente non vi posso farvi vedere perché è messo lì poi ho acquistato sette di queste patelle che sono molto molto belle che sono le patelle che asciugano che c'è cucinano scusate anti grasso senza grasso praticamente ed è veramente buona perché veramente io tipo sette volte ci metto l'olio per esempio perché questa me la trovo per prima ci metto l'olio e poi mi cucino una cotoletta o altre cose veramente cioè mi le cucina non non penso fare troppo quella cotoletta ed è veramente buona io in questo potere un cotolato veramente bene cioè non c'è niente da dire ovviamente ce ne sono di tante misure io ho preso queste due perché mi sono capitate praticamente le prime infatti ancora sono impallate perché ho usato quella più grande diciamo ecco e niente questo mi pare che è tutto perché vi ho fatto vedere tutto mi dispiace posso fare vedere appunto i vassoio quei contenitori e più più male ma purtroppo le ho dovuto lavare perché ora comincia a uscire appunto le cose infernali e le sto mano a mano lavando visto che ancora c'è bel tempo fa caldo si asciugano molto presto niente ragazzi questo è tutto spero che non vi siate annoiati scusate con questo video purtroppo me l'avevo detto che lo facevo appunto l'ho fatto alla fine se volete guardarlo guardate comunque non vi vi metto le informazioni del sito così se volete ordinare il catalogo lo potete fare niente ci vediamo alla prossima con un altro video baci